La città di Taranto non è amministrata male dall'amministrazione Melucci, ma non è proprio amministrata. Dico questo con elementi a supporto, a riprova di quanto sostengo. Ci troviamo in via Cavour, una zona centralissima nel cuore del borgo Umbertino, a pochi passi da piazza Garibaldi, dinnanzi al Martà, Museo archeologico nazionale di Taranto. Guardate cosa hanno fatto le ditte che hanno operato dei lavori per conto della fibra, hanno rotto, hanno scassato il manto stradale e non si sono degnate neppure temporaneamente di procedere con l'asfalto. Non dico l'asfalto definitivo, che richiede una certa procedura alcuni giorni, ma questi si sono limitati a mettere un po' di cemento, terriccio, cemento, non si sa che cosa sia, che si sta miseramente sfaldando e sgretolando con un po' di pioggia. Guardate qui, emergono proprio le pietre, le pozzanghere, guardate. Questo è il sindaco del nulla, l'amministrazione comunale del nulla, l'assessore ai lavori pubblici del nulla, sempre caro Melucci, caro Mattia Giorno politicamente parlando, perché politicamente voi siete delle perfette nullità, nulla di personale, massimo rispetto verso la persona, ma politicamente voi siete incapaci, inefficienti e nulli. Perché un'amministrazione che permette alle ditte di fare i comodacci propri, di venire a sfregiare il manto stradale, il patrimonio del comune di Taranto, senza neanche degnarsi di coprire con un po' d'asfalto, è cosa gravissima, un'amministrazione che non controlla, che non prende per le orecchie le ditte e le costringe ad asfaltare, fosse anche, ripeto, un asfalto temporaneo, un sindaco con le palle, un assessore ai lavori pubblici con le palle, avrebbe preso la testa delle ditte e l'avrebbe messa al posto dell'asfalto, sempre metaforicamente parlando, qui no, perché ognuno qui gode di impunità, ognuno può fare i comodacci propri, ognuno può venire, può spaccare il manto stradale, dice tanto che me ne frega, l'amministrazione, il sindaco, l'assessore ai lavori pubblici stanno lì felici e contenti e neanche mi richiamano all'ordine a compiere il mio dovere, guardate qui, guardate, cemento, ma neanche cemento, pietro, fango, non lo so che cose guardate, guarda, 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 terra, neanche asfalto, neanche cemento, terra, guardate le pozzanghe, guardate, guardate qui, guardate, guardate signori, guardate, altro cemento, ma stiamo scherzando? Signori, ma in quali mani siamo finiti? Signori Tarantini, ma da chi siamo amministrati? Da chi siamo amministrati? Questa è la triste realtà di Tarantini, guardate, guardate, guardate qui, guardate, vergogna, soltanto vergogna e questo è il coraggio di dire, stiamo seminando la rinascita, ma cosa stai seminando? Il degrado stai seminando, l'incuria, questo stai seminando caro Melucci e cari amici di Melucci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS